Sono scaduti ieri sera alle 20 i termini per presentare le candidature alle segreterie provinciali del Partito Democratico. Nella BAT sono in quattro, si tratta del segretario provinciale uscente Andrea Patruno, del barlettano Agostino Cafagna, dell'andriese Anna Palladino e della margheritana Antonella Cusmai. Sarà un confronto interessante nei numeri, meno nei contenuti, visto che le aree si mescolano nel sostegno all'uno o all'altro candidato, più in funzione di convenienze territoriali che di affinità programmatiche. A rendere incerto e forse incandescente il Congresso, la decisione di importanti esponenti del Partito, l'onorevole Francesco Boccia in primis, di non sostenere l'uscente Patruno, come per molti appariva scontato, ma Agostino Cafagna, principale uomo di riferimento del parlamentare bicegliese su barretta. Una decisione che ha fatto letteralmente imbufalire, oltre che Patruno, anche i vari Lamacchia e della Croce, che ora giurano vendetta. Agostino Cafagna, Renziano, ma all'occorrenza anche buddista o musulmano, potrà contare sul sostegno, oltre che di Boccia, anche del consigliere regionale Caracciolo, del sindaco di Spinazzola Scelsi e del Franese, Fabrizio Ferrante, non iscritto al PD, ma che ha più voti del PD, coordinatore regionale dei Comitati Pro Renzi, l'unico renziano della prima ora. Gli altri lo sono diventati solo negli ultimi giorni. Alle ultime primarie erano infatti tutti per Bersani, ma si sa se nel resto d'Italia si sale sul carro del vincitore. Nella BAT ci vuole il carrone del vincitorone e non è mai abbastanza grande per accogliere tutti. Con Patruno, che nonostante i disastri della sua gestione, si ripropone come se nulla fosse, dovrebbero schierarsi i già citati Michele Dalla Croce, ex sindaco di Minervine, commissario a Biceglie, e Michele Lamacchia, sindaco di San Ferdinando, nonché gli altri due caballeros, il tranese Franco Cuna, commissario ad Andria e tesoriere provinciale uscente, e l'andriese Lorenzo Marchiorossi, attuale presidente provinciale. Per Patruno, che per la segreteria nazionale sostiene Gianni Cuperlo, voterà anche l'ex segretario provinciale della Margherita, l'andriese Peppino Pirro, che era in procinto di candidarsi, salvo poi recedere, proprio per sostenere il segretario uscente. Antonella Cusmai, anch'essa lettiana, viene supportata dal consigliere regionale Mennea, da quello provinciale di Minervino Michelangelo Superbo, dal PD di Margherita di Savoia e dal consigliere di Trinità Polidonato Piccinino, mentre la minoranza del PD di Biceglie dovrebbe dividersi tra la Cusmai e Patruno. Infine, l'andriese Anna Palladino è la candidata delle donne e dei giovani democratici di Andria, nonché del circolo Libertà e Partecipazione, vicino al PD, e cercherà di ottenere appoggi trasversali nelle altre città, soprattutto tra i sostenitori di Giuseppe Civati, della cui mozione la Palladino è tra le principali animatrici della BAT. Questa, per grandi, anzi grandissime linee, la situazione attuale, consci che sino al 26 ottobre, giorno del voto, accadrà di tutto e di più. In pole position al momento appare Cafagna, ma l'inferocito Patruno e i suoi stagionati sostenitori appaiono decisi a non mollare l'osso. Del resto è noto il masochismo del PD, elemento su cui il pessimo Patruno conta molto. Insomma, siamo certi che ne vedremo delle belle.